Viva! 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 Allora, per chi non è stato in Canania, c'è bisogno, mi dicevo, nella zona sud di Canania, salendo da via Carvaldo si arrivò a Fottino che sarebbe l'arco che una volta delimitava la città perché chi passava di là era morto, nel senso che dopo c'era il cimitello sul lato destro c'è la via Stazione e ogni tanto dopo si faceva una serata da bando e allora per gli stranieri come faceva? si capisce vabbè no ma si capisce perché la lingua italiana è nata dalla siciliana una volta mi invitano una festina una volta mi invitano un festino un festino un festino una festa di la via Stazione signori Nelma di Benizia a cantare ce n'era una che fa scia a cantare ce n'era una che fa scia a cantare io ora l'italiano racconti più di capiti l'occhio si dicevano parevano giustiti io ora l'italiano con di ben di capiti questa facciussa profica c'è l'esima se ne è giù stai a cantare me la vi rende si va a saltare si sta a cantare di mille colori no non è la potenza mi volta mi volta da tombolata e poi a una a una e non stai a cantare i passaggi non sono l'unica no l'unica e tutti la mità ti vi rendo da che scena i da i da la gau i giusti la tondella ma l'unica è da barbare